Il video è il how to organize a low cost travel ovvero, io è da già 3-4 volte che viaggio all'estero quindi tramite la mia esperienza vorrei raccontarvi qualche metodo, qualche consiglio per cercare di viaggiare nel modo più economico possibile Allora, uno, dovete scegliere la meta giusta città come Londra, Amsterdam ed altre sono più costose rispetto a magari una Barcellona, Budapest e cose varie quindi la scelta della città è anche importante ovviamente poi se magari il sogno della vostra vita è andare ad Amsterdam, nessuno vi frena però comunque sappiate che qualcosina in più la spenderete lo stesso dovete scegliere il periodo in cui andare alte stagioni, basse stagioni ovviamente se la volete per il mare è ovvio che dovete andarci in estate perché a meno che non sia, che so, ai tropici ovviamente anche lì non se ne parla di low cost comunque dovete scegliere l'alta o la bassa stagione in bassa stagione è chiaro si spenderà di meno ovvero tra febbraio e maggio e settembre, ottobre, novembre più o meno allora, io tra tre giorni parto per Budapest e Budapest è stata la mia scelta per questa fine estate è una città più economica rispetto ad altre ma è comunque periodo fine estate dopodiché dovrete confrontare i prezzi dei voli più volte al giorno per vari giorni e su più siti diversi allora, sembra una cosa molto complicata è un po' lunghina da fare ma ne varrà la pena anche perché risparmierete moltissimo allora, in certi orari della giornata un volo può costare di più o di meno dipende in certi siti può costare di più o di meno dovrete confrontarli soltanto io uso siti come Vola Gratis e Momondo ad esempio questo di Budapest l'ho prenotato su Momondo ovviamente dovrete prenotare andate e ritorno insieme perché sennò c'è onel c'è allora, poi certi siti offrono la possibilità di prenotare il volo più hotel insieme ma secondo me è una cosa molto scomoda che non mi piace ma voi potete fare come volete per l'hotel invece vi consiglio un hotel o stello che vi faccia solo dormire e non mangiare uno perché se magari siete in giro tutto il giorno dovreste tornare a pranzo non riuscire quello o quell'altro perdete un sacco di tempo e magari non vi soddisfa pieno il cibo che state mangiando e volete provare qualcosa più tipico del posto in cui siete ma non potete farlo perché avete l'obbligo di tornare in hotel è per quello che io scelgo un ostello quando vado per due o tre giorni in una città europea anche perché spiegatemi la gente che va all'estero e mangia in ristoranti italiani non ha senso almeno per me è così voi fate come volete dopodiché ah comunque hotel eccetera potete cercare su booking io uso booking per gli hotel ostelli invece per gli appare non ciò che so più per gli appartamenti Airbnb dopodiché dovete anche decidervi qualche mese prima rispetto alla data della partenza perché se prenotate un volo il viaggio comunque due mesi prima lo troverete sicuramente più economico più mesi rispetto ai due che vi sto consigliando secondo me è un po' troppo soprattutto per una città europea perché potrebbero essere che cambino i voli gli orari poi diventa troppo scomodo e quindi non riuscite a viverla decentemente quel viaggio sempre per i voli una cosa oltre al fatto di prenotarli due mesi prima così li troverete più economici devono essere magari sfruttati i giorni a pieno ovvero per l'andata potete prenotare il volo la mattina presto verso le 7 le 8 invece ritorno la sera dell'ultimo giorno in cui rimanete così potete appunto sfruttare a pieno tutti i giorni di tutta la vacanza se dovete starci due o tre giorni ovviamente è più comodo così avrete più tempo per godervi meglio la città che state visitando dopodiché io vi consiglio di acquistare una guida ad esempio io ho quella di Berlino questa di Budapest sono molto molto comode e danno un sacco di informazioni questa che prendo io che compro io a parte mi sono affezionata che quasi quasi ci faccio la collezione ma comunque sono della Lonely Planet costano tra i 12 13 euro ciascuna hanno la cartina all'interno cosa molto utile anche perché se magari non avete wifi in quel momento ovviamente per cercare un posto o quello che è potete orientarvi secondo la cartina poi nelle guide ci sono scritte tutte le attrazioni i prezzi dei ristoranti una cosa molto utile poi magari una cosa tipica di Budapest sono le terme anche lì ci sono i prezzi delle termine le attrazioni varie eccetera acquistare una guida in Italia vi permetterà uno di non perdere tempo sul luogo quindi sempre qui per il fatto di non sprecare il tempo e sfruttare i giorni il più possibile e poi ovviamente non vi serviranno altre informazioni se magari volete sapere qualcosa di storico della città dovete magari che so comprarvi una guida lì oppure fare un giro turistico dove qualcuno una persona fisica vi spiega le cose ed è inutile spendere soldi per niente quando potete avere le stesse informazioni in un libro cartaceo che potete acquistare direttamente in Italia allora questi qua erano i miei piccoli consigli spero tanto che vi siano piaciuti io tra tre giorni parto per Budapest e non vedo assolutamente l'ora vlog a tutto andare e un bacio enorme si lo so ho un dito non fatto con uno smalto ma è quello che avevo infortunato tipo una cosa del genere comunque spero tanto che vi sia piaciuto questo video vi sia stato utile perché comunque per me sono sempre interessanti questi tipi di video e adoro viaggiare ovviamente e nulla baci buone vacanze e buona organizzazione di viaggi a tutti voi